Siamo al TTG di Rimini, edizione 2018, una manifestazione in continua crescita anno dopo anno, uno dei punti di riferimento, dei punti fermi della manifestazione è la presenza delle città baltiche, quindi la Lituania, Lettonia ed Estonia, e il loro operatore di riferimento è Lituani Anturs, che è presente da tanti anni qui a Rimini, tutti gli anni è un punto fisso con il proprio stand e tanti clienti, operatori e tante domande che vengono fatte. Siamo qui in compagnia di Renata Nievi Diomine, che ci illustrerà, se ho detto bene il cognome, altrimenti lo ripeterà lei, dà alcune informazioni sulla Lituania Anturs, cosa fa, quali sono le mete e le destinazioni, ci dica tutto lei. Quindi siamo sul mercato italiano, lavoriamo in Lituania, Lettonia e Estonia da 27 anni, quindi siamo esperti, sappiamo fare di tutto, possiamo contentare tutte le esigenze di tutti i clienti, lavoriamo con gruppi, con turisti individuali e siamo molto bravi. Ne sono consapevole, infatti siete il più portante tour operator della Lituania e quindi questo vorrà dire qualche cosa. Perché siete presenti a Rimini? Perché è una fiera molto importante, abbiamo tanti contatti di amici con quali lavoriamo da tanti anni e poi troviamo contatti nuovi, quindi una fiera importante per la nostra ditta e per il nostro lavoro. Quali sono le cose più importanti che vi chiede il turista, il cliente, il turista in italiano che viene a Vilnius, che va a Riga, che va a Tallinn, quali sono le mete, le cose da fare, vi chiede qualche cosa in particolare che sia presente nel tour? Ci chiedono servizi buoni, qualità buona e destinazioni interessanti. Quindi organizzate tutto, la permanenza, anche i voli? No, i voli non li facciamo, però facciamo tutti i servizi a terra, quindi alberghi, guide, pasti, trasporto, folk show e quindi possiamo organizzare tutto quello che ci chiedono. Quindi un turista in italiano si può rivolgere con tranquillità a Lituania Source perché sicuramente gli andrete a proporre le cose migliori della Lituania, le cose migliori dell'Estonia, le cose migliori della Lettonia e anche della Bielorussia e della Russia, voglio dire, questo è il vostro bacino di riferimento. Tutte le cose migliori? Assolutamente sì. Bene, allora bisogna rivolgersi con tranquillità a questo tour operator e invitiamo anche tutti gli italiani che ci stanno vedendo di rivolgersi al Lituania Tours. Grazie. Grazie a lei.